Come è stata raccontata e da chi? Questo è uno dei temi fondamentali del libro da imprenditori, da politici, dai media e da tutti noi. Questo racconto va attraverso quattro direttrici fondamentali. Prima di tutto ho cercato di definire che cosa sia la rivoluzione digitale e quindi ci sono molte definizioni da un lato e molto spesso non sono univoche, tranne forse una, cioè il fatto che ci troviamo in un momento storico di passaggio, di smaterializzazione da atomi a bit. Poi invece c'è molte incertezze in relazione ai nomi. La rivoluzione digitale era chiamata rivoluzione dell'informazione negli anni 60-70, oggi più trasformazione digitale. C'è molte incertezze in relazione alle date, quando è iniziata questa rivoluzione digitale, è già finita o ancora in corso. Ma tutta questa incertezza è fondamentalmente strategica perché aiuta la rivoluzione digitale a mantenersi in qualche modo giovane, a cambiare la sua pelle in superficie senza cambiare la sostanza. La seconda direttrice invece è il tentativo di lavorare su quali sono i parallelismi con le rivoluzioni passate. La rivoluzione digitale è stata spesso raccontata come una rivoluzione simile a quella del fuoco, a quella del libro e soprattutto, direi, alla rivoluzione industriale. A cosa servono questi parallelismi? A rimarcare, anzitutto, che si tratta di un passaggio epocale, di un passaggio storico. La terza direttrice con cui la rivoluzione digitale è stata raccontata ha a che fare con tutte le retoriche, i discorsi ripetuti a distanza di anni, ma che sono molto simili, quelli che nel libro ho chiamato i mantra. In particolare hanno individuato i cinque. Il primo è il fatto che la rivoluzione sia considerata dirompente, questo è ovvio, passaggio da Atomi a Bit, come detto prima. Seconda dimensione è che sia una rivoluzione totale, cioè globale da un lato, ma che coinvolge anche tutti i campi del sapere umano. Terza dimensione è la sua irresistibilità, non possiamo opporci alla rivoluzione digitale. La quarta è la sua essere coniugata al futuro, diciamo, la rivoluzione digitale avverrà sempre in un futuro sta per avvenire. L'ultima è il fatto che la rivoluzione sia permanente, questo è un chiaro lascito, direi, della rivoluzione russa e della dottrina trotskista. La quarta direttrice ha a che fare con le ragioni per cui noi crediamo di essere immersi in una rivoluzione digitale e, in particolare, secondo me, molte di queste spiegazioni sono, come dico nel libro, quasi religiose. La rivoluzione digitale ha costruito i propri patriarchi, i propri santi, ha creato dei profeti ed evangelisti che appuntano il compito di diffondere il verbo della rivoluzione e addirittura gli eretici in realtà non mettono mai in forse la rivoluzionalità della rivoluzione digitale, ma semmai appunto le direzioni sbagliate.